I ragazzi sono ancora su a ballare, noi stiamo andando verso il centro di Tel Aviv e loro stanno ballando su, si sentono è la cosa più surreale che io abbia mai associato a tutto il prodotto per quanto tempo ti fai con il carro? ogni giorno ogni giorno ogni giorno e per quanto tempo? 20 anni non c'è tempo per l'happiness, l'happiness è ora ogni giorno non sei vecchio, questo è l'happiness che vuol dire non essere vecchio con la barba bianca vuol dire non essere vecchio che dici no ormai, ormai, la parola ormai deve uscire senti come sa ragazzi c'è il tetto che sta saltando, diciamo così sulla macchina prima sanzio, prima sanzio, prima sanzio lui fa questo tutto, c'è il suo lavoro, no? no, 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 non prendono soldi no, 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 nessuno prende soldi qua loro se tu gli dai dei soldi, vanno in giro, ti dà le monete, stampano libri di rabbino Achman e li danno in giro oh, si paga la benzina vedi che tutti gli suonano, gli fanno festa perché? quindi tutti li appoggiano no, ci sono quelli israeliani, sai, tutti i scicchettoni che dicono, dai, qua sono sti barboni ci sono quelli arrabbiati nella vita che gli dà fastidio vedere quelli felici ma perché loro, rispetto a tutti gli altri ortodossi, ballano e cantano quello che ha detto rabbino Achman, prendono un angolo della Torah che è scritto nel Talmud che chi fa felice gli altri sicuro va in paradiso c'è chi va in paradiso facendo del bene, c'è chi dando da mangiare ai poveri c'è chi va in paradiso facendo felice gli altri beh, diciamo di scena, hanno preso la cosa più bella di tutta ha detto facciamo divertire tutti qua quello che dici tu, la parola, la cosa, quello che hai detto tu che viene la cosa più bella hanno scelto è secondo il tuo, la tua anima perché può esserci uno che invece è una roba del genere e gli sembra... Giacomo, il figlio è chiede, come le caridim lo vedono? un po' troppo troppo o... sì, sono troppo troppo! Grazie